L'incidente mortale in via Belvedere poco prima della rotatoria a perdere la vita una donna di 57 anni di olevano sul Tusciano. Sul posto la polizia locale, gli ordini del comandante Gerardo Iuliano. Le auto coinvolte sono due, una Toyota e una 500. La Toyota percorreva via Belvedere, proveniente da Bellizzi, in direzione Battipaglia. Giunta all'altezza di un noto caseificio della zona, per causa ancora da appurare, avrebbe urtato la 500. La conducente della Toyota di 78 anni è stata ricoverata perché ferita. La figlia, passeggera 57enne, residente ad olevano sul Tusciano, purtroppo è deceduta. Il medico legale intervenuto dopo aver notiziato il magistrato di turno ha fatto rimuovere la salma, che adesso è a disposizione della magistratura, che deciderà se effettuare la dopposia. Anche la terza persona coinvolta è stata trasportata in ospedale. Le condizioni non sono gravi.